Tua grandezza e profondità Qui con te scopro il motivo Parola di oggi 29 novembre 2023 Genesi 1 verso 2 dice che la terra era in forme, vuota che c'erano le tenebre sulla superficie dell'abisso ma lo spirito del Signore, lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, si muoveva e quando c'è lo spirito di Dio ciò che è vuoto e in forme non può resistere per sempre e infatti al verso 3 è scritto che Dio disse sia luce, separò la luce dalle tenebre lo spirito del Signore aveva tutto sotto controllo ed è così nella mia e nella tua vita ciò che è in forme, ciò che è vuoto, quel problema, la difficoltà lo spirito dell'Eterno la spazzerà via e metterà pace nella nostra vita